Buongiorno, anche l'Associazione Disordine sostiene e invita a sostenere anche con piccole donazioni, cuore e territorio. Pensiamo sia importante donare all'ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci quelle strumentazioni indispensabili soprattutto oggi. Diciamo tutti di stop al virus. La solidarietà è un valore, ma è un valore che va coltivato. Grazie. Ciao a tutti, sono Chiara Sansoni, membro dell'Associazione Disordine. Manca poco e riusciremo ad uscire da questa situazione che ha portato dolore e tristezza. Rimaniamo uniti e non molliamo. Disordine dice stop virus. Sono Sara Guberti, sono in India, Mumbai e l'Associazione Disordine dice stop al virus. Sono Giorgia Baroncelli e sostengo l'Associazione Disordine per dire stop al coronavirus. Mi chiamo Elena Pagani, socia fondatrice dell'Associazione Disordine. rispettiamo le regole e ne usciremo più forti di prima. Il disordine dice stop al virus. Ciao a tutti gli amici da me e da Maya. Eccoci. Anche noi siamo dei disordinati e aderiamo e sosteniamo l'iniziativa di cuore e territorio per la raccolta dei fondi per il nostro ospedale di Ravenna. So che è difficile perché nella nostra natura, noi siamo romagnoli, siamo italiani, la voglia di parlarci, di toccarci, di stare insieme. Presto sono certo che torneremo ad abbracciarci e a farlo, ma per ora è determinante rimanere a casa. Sono certo anche che fino a quando c'è la musica non saremo mai soli. Al di là di questo ricordiamoci che è una cosa determinante per noi e per gli altri e che ci viene chiesto di rimanere a casa nel divano e non di andare in guerra. Mi raccomando. Il virus non vuole i disordinati. Io sono Maria Giulia e vivo a Londra e volevo dire che il disordine della Malta dice stop al coronavirus. Il disordine dice stop al virus. Parola ridicola! Ciao, sono Serena Saporetti dell'Associazione Disordine. In questo momento così difficile per tutti, anche io voglio unirmi all'Associazione per lanciare il messaggio stop coronavirus. Disordine contro il virus. Sono Stefania Maggio e faccio parte dell'Associazione Disordine. Aderiamo alla raccolta fondi in favore dell'ospedale di Ravenna insieme all'Associazione Cuore e Territorio. Cerchiamo di stare uniti il più possibile, aspettando che la vita possa tornare alla normalità e auspicando che questa normalità possa addirittura migliorare. Disordine contro il virus. Sono Cangini Stefano, un socio fondatore del disordine. Un semplice gesto può salvare la vita. Indossate la mascherina. Il disordine contro il virus. Il disordine dice stop al virus. Ordine o disordine? Dal disordine qualcosa nascerà. Ciao, Danilo. Ciao, Danilo. Ciao. Ciao, Danilo. Grazie a tutti.